Exoratix, oggi ho scelto per voi questa bellissima Ford Focus, un'auto per giovani, soprattutto in questa versione blu. Quindi Martix, avvicinati che andiamo a scoprirla insieme a partire dal design degli esterni. Bellissima la mascherina anteriore con tutte le listarelle parallele cromate. Il gruppo ottico anteriore si allunga sulla fiancata e non mancano le scanalature che ne definiscono i volumi. Quindi stupendi sono i cerchi in lega B-Color, ha 1, 2, 3, 4, 5 razze doppie, niente male, cromati e grigio scuro. Andiamo a vedere subito il bagagliaio perché so che è la cosa che vi interessa di più. Abbiamo anche i privacy glass per garantire privacy e protezione dai raggi solari, sia i vetri posteriori che il lunotto. Voilà, il bagagliaio è davvero, davvero capiente. Intanto vi ricordo che stiamo parlando della versione business, 1.10 cilindrata, 125 cavalli. Parte da 375 litri e arriva a 1.354 abbattendo le sedute posteriori frazionabili 60-40. Lo scalino di carico è abbastanza importante ma così sarà più contenitivo. Doppia luce di cortesia sia a destra che a sinistra. Vi ha stupiti? Ford Focus? Andiamo a scoprire gli interni che sono davvero spaziali. I sedili sono davvero comodissimi, ergonomici, davvero morbidi e confortevoli. Guardate un po'. Wow! Sono in tessuto con attacchi Isofix a entrambe le sedute esterne posteriori e non manca la rete dietro ai sedili anteriori. Spostiamoci nella parte anteriore dell'abitacolo e vediamo un po' com'è alla guida. E soprattutto il quadro strumenti e il sistema di infotainment perché è davvero super dotata quest'auto. Ci piace tantissimo. Abbiamo percorso 21.633 km e lo vediamo dalla parte in digitale del quadro strumenti. Dal display praticissimo che si erge al centro della plancia possiamo gestire tutto l'infotainment. E touch risponde davvero molto bene al tatto. Lungo il tunnel centrale troviamo le bocchette dell'ariazione, la gestione del clima, presa USB presa da 12 volt, vano portaoggetti, il cambio che è manuale a sei rapporti, il freno di stazionamento elettrico e numerosissimi sono i vani portaoggetti. Quindi usciamo, facciamo un piccolo recap e poi vi lascio al prossimo video. Intanto vi dico anche che l'alimentazione è benzina ed è stata immatricolata a marzo 2019. Ford Focus, 1.0 di cilindrata, 125 CV, allestimento business, la trovate sul nostro sito ratix.com. Potrete riservarla per 7 giorni senza impegno con soli 100 euro e prenotare una video call con uno dei nostri sales oppure un test drive. Al prossimo video. Exo Rattix. Grazie. Grazie a tutti.